Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93 Come potete vedere questo è un video diverso che si discosta un pochettino dai soliti gameplay miei E volevo prima di tutto ringraziarvi per gli iscritti che ho in questo momento anche se sono pochi Pochi vabbè per me è già un traguardo aver raggiunto essere riuscito a colpire 47 persone 48 Mi ricordo adesso bene Vi ringrazio moltissimo per il supporto che mi state dando veramente Che dire volevo prima di tutto fare questo video per spiegarvi un pochettino che materiali utilizzo Che cosa utilizzo per poter registrare, per poter riprendere, lavorare Ovviamente devo lavorare i video, devo riprendere, devo evitare che voi sentiate il suono, il sottofondo dell'audio dell'impianto stereo Quindi utilizzo delle cuffie eccetera Quindi partiamo subito per farvi vedere un pochettino il tutto e vediamo un pochettino cosa utilizzo Come potete vedere io utilizzo delle cuffie che sono le, non so se le conoscete, le Beats, le Mixer Che sono quelle da DJ, io le ho prese principalmente perché sono non solo comode ma sono anche, diciamo Si possono piegare, ad esempio se, non so se avete visto molti dei miei video Cioè in alcuni dei miei video utilizzo, la giro così la cuffietta, vedete ragazzi Io muovo così, posso mettermela in questo modo Un attimo Posso mettermela in questo modo e magari se mi voglio sentire bene posso anche fare questo Questo è il vantaggio di avere queste cuffie Ovviamente oltre ad avere il, cioè essere molto figa A me piacciono tantissimo ragazzi, veramente bellissime Oltre ad avere questa possibilità di piegare, di girare Vedete ragazzi, posso girare le cuffie in questo modo E oltre all'estetica veramente figa Cioè ha anche ragazzi due entrate AUX Che sono queste, le vedete Come potete vedere queste due entrate AUX Perché magari se voglio ascoltare Ad esempio, sto giocando a Minecraft Voglio ascoltarmi il Voglio ascoltare la musica di Minecraft Del gioco Infilo un AUX, c'è un'entrata qui Un'entrata del Jack qui E se ad esempio volessi ascoltare dell'altra musica Prendo tranquillamente infilo il Jack qui Infilo un altro Jack qui ragazzi Quindi è una cosa molto comoda che sinceramente mi piace molto Io ve le consiglio però ovviamente Diciamo che non sono alla portata di tutti Costano come cuffie Il prezzo si gira Se non sbaglio si aggira intorno ai 250 euro Però che dire ragazzi Veramente buone Soprattutto per il suono Come piace a me Molto basso una figata Quindi se dovete comprare Se dovete prendere un paio di cuffie Non volete comprare delle cuffie Esclusivamente da gaming Vi consiglio queste Perché magari con queste potete anche uscirci Dopodiché ragazzi Allora Qui se vedete questa scatola delle Kenwood Questi Twitter del cavolo Sono la mia postazione Dove metto la mia videocamera Lì ovviamente c'è il vetro C'è lo specchio per guardarmi Per vedere se sto registrando bene Se la posizione della videocamera è giusta Dopodiché Oltre alla postazione Ci sono anche le casse Che ovviamente sono nascoste qui dietro Perché io ovviamente uso le cuffie Le altre casse La cassa qui sotto Sì E il subwoofer Abbiamo il controller L'Xbox Ovviamente 360 Autografata di Halo Se non ricordo Sì Halo Che ovviamente era un'ottima offerta ragazzi 250 euro Se non ricordo male doveva essere Console Due joystick Questi La console tutta aerografata 320 giga di memoria Con l'hard disk ovviamente E il gioco di Halo 4 E un paio di queste cuffiette ragazzi Che adesso sono pieno Veramente Però una buona offerta ragazzi Veramente Altri due joystick E ovviamente il nostro mitico Hitman Che si sta facendo Che adesso si vuole rilassare Vedete ragazzi Questo per la testa E ovviamente anche il tastierino ragazzi Vedete qui Opla Va bene E il tastierino per poter insultare perfettamente gli altri giocatori Ovviamente l'houpage Vedete ragazzi Questo è l'houpage HDPWR 2 Gaming Edition Diciamo che è un'ottima scheda di acquisizione video e audio Ottimi cavi Ovviamente ragazzi Non vi ho fatto l'unboxing Perché l'unboxing l'ho fatto Scusate ma Scusate ma hanno citofonato a rompere i coglioni Ovviamente Proseguiamo con l'houpage ovviamente L'hDPWR 2 Gaming Edition Contiene ben due cavi HDMI Come potete vedere qui ragazzi Due cavi HDMI Che sono anche Placcati in oro Il cavo USB Ragazzi Di solito cavo USB Per Per collegarlo al computer Vedete Io ce l'ho collegato al computer Ora il cavo HDMI E Niente Ovviamente anche le prese per la PS3 Che sono completamente diverse Se non ricordo mai Aspettate che ve lo faccio vedere Allora dovrebbe essere La presa lì centrale ragazzi Ovviamente non si vede Che anche Non si vede E qui E in mezzo al cavo HDMI E la presa USB Comunque sia ragazzi Ha anche le entrate Per l'alta definizione Anche per PS3 Quindi un ottimo acquisto Veramente ragazzi Ha di tutto e di più Se non ricordo mai Ho speso 150€ E me lo sono portato a casa Veramente ottimo Come Come scheda di acquisizione Audio e video Dopodiché Passiamo ai miei giochi Ovviamente come potete vedere La mia collezione Non è Non è granché ampia Però Ho un po' di giochi ragazzi Però almeno Per fare il gameplay Per farvi divertire Più o meno Tutta la collezione Di Call of Duty Mi mancano solo Il 2 e il 3 Perché Sono Costano ancora tanto Non so il motivo Per cui costano così tanto Per cui costino così tanto Scusate E Boh Un po' di Gears of War Mi manca l'ultimo Judgment Ho il Call of Duty Ho il Medal of Duty Ho il Medal of Honor Ovviamente Questa telecamera Non mette a fuoco Scusate Ok Ho Crisis 3 Medal of Honor Un po' di Medal of Honor Normale Battlefield 3 Medal of Honor Warfighter Crisis 3 Hitman Sniper Un po' Ve li ho fatti vedere La saga di Assassin's Creed Halo 4 Forza Horizon Sleeping Dogs E questi sono un pochettino Giochi più Dimenticati Diciamo C'è Homefront Deus Ex Ghost Recon Future Soldier Un paio di FIFA Ragazzi Un gioco che non so se l'avete mai conosciuto Guardate Opla Full Auto Un gioco di merda Però simpatico Dai Un arcade Dove avete delle macchine con mitragliatori Eccetera Dovete distruggere quelle degli avversari La scatola di Black Ops Quella di Hitman E niente ragazzi Questi sono i miei giochi E ovviamente ragazzi Adesso arriviamo al pezzo più bello Che è il mio preferito Il computer Ho un Sony Che mi è stato dato Un Sony Vaio Con Alcuni attributi Che veramente servono Vi giuro ragazzi Per lavorare Perché Altrimenti Se non avete questi piccoli attributi Che sono essenziali Il computer girerà malissimo E Ovviamente Non potrete lavorare i video Perché li vedrete al rallentatore E Questo non andrà Cioè Non va bene ragazzi Ve lo giuro Non va per niente bene Perché Se dovete lavorare Dovete lavorare al meglio Quindi Che cosa dire Io ho un computer Con Intel Core i7 Si Intel Core i7 Intel Core i5 Ovviamente Non mette a fuoco Windows 7 Scheda Radeon Graphic Ovviamente La scheda dell'MD Ottima Se dovete acquistare un computer Per poter lavorare con Ovviamente si mettono le bolle E ovviamente Non mette a fuoco Cazzo Se dovete Se dovete Se dovete comprare un computer Che ovviamente Su cui dovete lavorare Vi consiglio Di prendervi un computer Che almeno Abbia Nella scheda grafica Un giga dedicato Almeno Un giga Due giga Perché La cosa più utile E avere giga dedicati Per lavorare Perché ovviamente Più ne avete E meno il video Andrà a rallentatore Perché io Nel mio computer Nell'altro computer Che ho Che è un compact Che ovviamente È qui Ovviamente È fermo Perché non lo sto più usando Lo uso solo Si vedete Questo computer Comunque sia Non ha neanche un giga dedicato E quindi L'ho installato lì Oltre ad essere Un sistema operativo A 32 bit Questo qua invece Un 64 Il compact Non aveva neanche Un giga dedicato E quindi il video Su Sony Vegas Me lo caricava A rallentatore E mi si vedeva A tratti Un veramente Uno schifo Quindi Il computer Ottimo Come potete vedere Perfetto Non ha niente Nessun tipo di problema Se non sbaglio Il prezzo Di quel Vabbè Questo si gira Il prezzo Il prezzo di questo computer Scusate Si aggira Intorno Ai 700 euro 750 euro Quindi Anche questo Non è molto Alla portata Di tutti Però Un ottimo computer Veramente estetica Veramente fantastica Ovviamente qui Non ve lo fa vedere Ragazzi Perché Non me lo fa vedere Anche la tastiera Che si illumina Però Non lo fa vedere Perché c'è luce Nella stanza E Non si illumina Passiamo al programma Di editing Come potete vedere Io utilizzo Sony Vegas Pro 12 L'ho installato L'ho installato Che è una Veramente una cazzata Ragazzi Una cazzatona Balorda Dovete solo scaricare Il programma Di Sony Vegas Pro 12 Provare ad andare su youtube E cercare Se non ricordo male Dove state scrivere Sony Vegas Pro 12 Sony Vegas Pro 12 Patch Se trovate la patch Ragazzi Dei Sony Vegas Pro 12 Basta Che installiate L'originale Sony Vegas Quello per 30 giorni Lo installate Non lo avviate E fate partire La patch La patch Ve lo installeremo Automatico Rendendo Cioè Non dovendo Non dovendolo utilizzare Solo per 30 giorni E Quindi Lo renderete Ovviamente Definitivo Potrete Potrete utilizzarlo Quanto volete E Però L'unico problema È che non avrete Le patch O I pacchetti aggiuntivi Di Tipo Non lo so ragazzi Delle transizioni Delle cazzate varie Unica pecca Di questo programma Che ovviamente Si mettono sempre Queste cazzo di bolle L'unico programma L'unico L'unico problema Di questo programma È che è tutto in inglese Quindi ragazzi Se non siete bravissimi Cioè Almeno Un pochettino Dovrete aiutarvi Con Con google translate Comunque sia Queste cazzate varie E niente ragazzi Vedete Qui Qui c'è la mia sigla La nuova sigla Come sto facendo E niente Questo è tutto Io questi sono i programmi Che utilizzo E Ok Blocchiamo Queste sono le cose Queste sono le cose Basilari Che utilizzo Nel mio Nel mio inventario Nelle mie Nelle mie Cioè Tutto Tutto quello che mi serve Ragazzi Tutto ciò che mi serve Per poter lavorare È veramente Ragazzi Non è una cosa Da tutti Non è semplice Iniziare una tv Una cosa del genere Soprattutto per le Molte persone Che lo fanno Quindi bisogna essere Competitivi Sin da subito Per poter Impressionare Il vostro pubblico E niente ragazzi Quindi da Cura93 È tutto Spero che il video Vi sia stato utile Vi ho spiegato Vi ho elencato Il materiale Indispensabile Per poter lavorare Su questi video Perché veramente Altrimenti Dovete fare fatica Se utilizzate Programmi di editing Come possono essere Movie Maker O cagate varie Gli unici programmi Forse al top Sono Sony Vegas Pro Sony Vegas ovviamente È Pineco Studio Anche se Pineco Ovviamente è un po' Limitato in confronto A Sony Vegas È una scheda Di acquisizione video Che possono essere Può essere L'Aupage Può essere L'HDPWR L'HDPWR2 Gaming Edition Possono essere Il Roxy Possono essere La Vermedia Possono essere L'Elgato Ce ne sono tanti ragazzi Veramente tantissimi Un paio di cuffie Ragazzi Se siete come me Che non volete Spendere 250 euro 300 euro Quello che cazzo Costano le cuffie Da gaming Solo per poi Utilizzarle a casa Io vi consiglio Di comprarvi Un paio di cuffie Che costano Lo stesso tanto Ma che almeno Potete utilizzare In giro Come possono essere Queste Un impianto audio Ovviamente Se lo volete Ma quello è proprio Il minimo Potete anche Non averlo Perché magari La vostra televisione È un buon impianto stereo Un Xbox 360 O una PS3 Quello che Quello che ovviamente Piace a voi Che ovviamente Dove ci sono le esclusive Dove ci sono Le esclusive Che ovviamente Che a voi piacciono Ovviamente I giochi È una postazione Non come la mia Cioè la mia Ovviamente È il minimo Che possiate creare Possiate crearvi È un computer Che sia ovviamente Almeno un giga Che abbia Di scheda grafica Di scheda video Mi ricordo adesso È un giga Dedicato almeno Due giga Perché veramente Ragazzi Altrimenti Il programma Vi elaborerà Il video A rallentatore Ve lo giuro Non potrete Lavorarci neanche Mi farà incazzare Come una bestia Una webcam Che ovviamente Non vi faccio neanche vedere Della Microsoft Quella che utilizzo E riprende a 720p Uno schifo ragazzi A me non piace Funziona malissimo Quindi Se vi dovessi consigliare Delle Delle webcam Ottime Sarebbero Quelle della Logite Che sono però costose Costano intorno ai 90 euro Quindi non so Se sono alla portata Di tutti Veramente costano tanto E E niente ragazzi Questo è tutto Questo è tutto Il minimo Indispensabile Per poter fare Dei video Ottimi Da cura E non è tutto Ci vediamo Alla prossima Mettete mi piace Lasciate un commento Se ovviamente Avete apprezzato il video Se vi è stato utile E chiedetemi pure Qualsiasi cosa Qualsiasi Approfondimento Che pensate Sia indispensabile Per incominciare Una carriera da youtuber Ci vediamo Alla prossima Ciao raga Alla prossima Alla prossima